di attaccamento e di orgoglio per il proprio lavoro e anche di affetto veramente per il proprio lavoro, che è quello che si fa così pianamente molto velocemente che mi direi l'altra parte che comporre questa giornata sarà l'energiazione il piatto di cogenerazione significa per l'ambiente non forse obiettivi astratti ma ogni anno, in ogni momento dell'attività di questa azienda riuscire a realizzare dei miglioramenti concreti che poi portano ai risultati sapete che Coca-Cola è il primo mondo dell'indice fondamentale di queste cose che è già già Sustainability Index, che è il numero uno chiamiamo subito, vogliamo vedere i numeri dell'azienda andiamo direttamente a me assuro che l'emozio è stato funzionando perché la ripeto che è il numero uno è qui come? 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 Grazie a tutti.